Buona serata e bentrovati a questa nuova puntata. Buona serata di due metri, eccezionalmente di mercoledì perché si è giocato il turno infrasettimanale. Siamo ancora qui a parlare di pallanuoto, di Roma-Visnova e Lazio in particolare. Allora diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, a Giacomo Cannella della Lazio. Buonasera e bentrovato. Grazie, buonasera a voi. E bentrovato a Vincenzo Carchiolo della Roma-Visnova. Buonasera. Allora direi di partire subito con le immagini per la Roma-Visnova, terza vittoria consecutiva, una vittoria molto importante che riviviamo in questo servizio. Abbiamo giocato bene dietro, abbiamo chiuso i loro punti di forza, Satovi, Milakovic. Siamo stati molto bravi a non sprecare, temevamo un pochino le loro ripartenze, invece abbiamo gestito bene il gioco. Cinismo, abnegazione e determinazione. La Roma-Visnova conquista la sua terza vittoria consecutiva, battendo in casa il Caris a Savona. Un successo casalingo che si aggiunge a quelli contro Ortigia e Florenzia, arrivato al termine di un incontro combattuto, che con l'espulsione di Jacopo Mandolini nei primi minuti avrebbe potuto mettere la squadra in ginocchio. A prevalere però sono la determinazione e l'organizzazione di gioco. Grazie ad una grande prova di sacrificio in difesa, con un bonito in grande spolvero, e grazie al cinismo in attacco di Gomez e Pappacena, la Vis vince per 8 a 6, scavalcando in classifica proprio il Caris a Savona. È la prima volta nella sua storia che la squadra della Capitale conquista tre vittorie consecutive in Serie A, che adesso permettono di guardare al futuro con più ottimismo. Sicuramente sono tre punti importantissimi perché vengono con una grandissima squadra, con dei buoni giocatori, sicuramente sulla carta più forte di noi, però oggi abbiamo dimostrato che con un gioco di gruppo, con un'ottima difesa, un attacco cinico, possiamo, soprattutto in casa, e dobbiamo fare punti anche con le grandi, cioè con le squadre che sulla carta sono migliori, ma che devono venire a sudarsela qua per uscire e tornare a casa con i tre punti. Allora Vincenzo, terza vittoria consecutiva, che aria si respira tra le fila del Roma-Visnova? Come state vivendo questo momento positivo? Questa gara, come ha detto bene il mister, siamo riusciti a chiudere i loro giocatori più rappresentativi, come Sadovi e Milakovic. Siamo riusciti, se a mio modesto parere, la stata vinta in difesa, tant'è che abbiamo subito solo sei gol, da una squadra forte come il Savona, chiudendo bene i loro contropiedi, facendo un ottimo lavoro in difesa, soprattutto sul loro centro-boa. Questa l'abbiamo provata comunque durante la settimana, è andata infatti poi bene. Passiamo alla Lazio, dove non si respira certo un'aria positiva, perché questa sconfitta proprio non ci voleva, ma prima di parlare con Cannella direi di vederci il servizio per ripercorrere la sfida. Io so che il Posillipo è una buona squadra, è in dubbio, anche noi siamo una discreta squadra, dove conosciamo i nostri limiti, però dobbiamo sempre migliorare ogni partita, e da questo punto di vista c'è stato un passo indietro. Masticamaro, mister vittorioso, al termine della gara interna contro il Posillipo, la sua Lazio incassa una pesante sconfitta nel sesto incontro stagionale del campionato di Serie A, rimanendo nella zona bassa della classifica. I campani si impongono con il risultato finale di 11-4, portandosi così a 15 punti. Match tutto in salita per i padroni di casa, costretti a rincorrere dopo appena 26 secondi a causa del vantaggio siglato da Rinsudo Iodice. Inutile il pareggio immediato di Giorgi, autore di altre due marcature nel corso della partita. Il Posillipo dimostra maggiore lucidità e concretezza, chiudendo sul 2-4 il primo parziale. Da segnalare tuttavia il rigore fallito da Cannella per i Biancocelesti. La Lazio resta in gara fino al secondo quarto, poi gli ospiti crescono progressivamente con il passare dei minuti. Nulla da fare di fronte alla compattezza degli avversari. Gli uomini di Vittorioso chiudono la gara in affanno, mentre il Posillipo arrotonda il risultato, portando a casa tre punti pesantissimi. Non sorride invece la classifica ai Biancocelesti, fermi a quota 4 e con tante cose da rivedere in allenamento per evitare altri scivoloni negli scontri successivi del torneo. Io penso durante la settimana di fare tutto per preparare i ragazzi. Evidentemente quello non basta, servirà altro. Bisogna continuare a lavorare, insistere. Fino a quando non arriveranno i risultati, in questo momento sembra che la squadra è un po' bloccata. Quindi bisogna lavorare e ottenere il prima possibile dei punti che ci possono far sbloccare. Allora Giacomo, cosa non è andato? Come mai questa sconfitta? È stata una partita difficile, lo sapevamo. Comunque abbiamo avuto pochi giorni per prepararla in allenamento perché avevamo disputato l'altra partita sabato pomeriggio. Ma comunque sapevamo che era una partita difficile. Nonostante ciò ci abbiamo provato, ma nei primi due tempi siamo riusciti quasi a tenere, a stare dietro al posillipo, ma negli ultimi due tempi abbiamo concesso troppo, abbiamo sbagliato. Infatti proprio per questo dobbiamo ritornare ad allenarci con più grinta di prima. Comunque tuttavia, anche se stiamo solo a quattro punti, sono passate solamente sei giornate. Abbiamo avuto un girone non troppo dalla nostra parte, abbiamo affrontato quasi tutte le big di questo campionato ed ora dobbiamo affrontare le partite più decisive che sono proprio quelle che ci devono dare punti. Vincenzo, invece voi vi aspettavate questo momento positivo, queste tre vittorie consecutive dopo un inizio di campionato non assolutamente facile? In questo momento uno spogliatorio si respira una bella aria. Diciamo, dopo la vittoria contro l'Ortigia e contro la Florenzi siamo arrivati con la testa con la mente un po' più serena e la partita contro il Savone, che appunto sulla carta è una squadra più forte, però riuscendo a stare concentrati siamo riusciti a fare risultato. Invece pochi sorrisi in Casalazzo, è un altro passo falso, è un momento difficile invece per voi, come mai? Potrebbe essere sia un blocco mentale che un blocco fisico, è vero che abbiamo giocato partite ravvicinate, ora sabato abbiamo un'altra partita, quindi giochiamo tre partite nell'arco di una settimana, ma comunque il nostro gioco sta comunque procedendo, abbiamo creato molto, cioè in quest'ultima partita abbiamo creato molto, molte volte abbiamo sbagliato le conclusioni finali, potrebbe essere forse a causa della stanchezza, ma comunque noi in allenamento diamo sempre il massimo e cerchiamo di migliorarci giorno per giorno. Allora, vediamo insieme la classifica per capire anche visivamente come stanno messe sia la Roma che la Lazio. Pro Recco in testa con 18 punti, Brescia e Posilipo 15, Sport Management 12, Napoli 10, Bogliasche e Roma Visnova 9, Savona 7, Acqua Chiara 5, Lazio 4, Trieste e Florenzia 3, Ortigia 1, Sori 0. Quindi Lazio bloccata a 4 punti, potrebbe andare meglio come commenti questa classifica? Come ho detto, noi per ora abbiamo affrontato partite molto difficili, appunto abbiamo affrontato Recco, Brescia, Posilipo che sono le prime tre della classifica e ora sabato dobbiamo affrontare anche quella che è la quarta. Quindi appunto ci aspettano ancora partite come Ortigia, Florenza e Trieste dove dobbiamo fare assolutamente dei punti. Invece per la Roma Visnova un bel passo avanti, siamo andati addirittura nella parte sinistra della classifica. In questo momento, come si può vedere, ci arriviamo a metà classifica, è anche bella da vedere. L'obiettivo di quest'anno è la salvezza, ancora il campionato è lungo, stiamo lavorando bene, quindi si spera di continuare su questa strada. E allora, sicuramente il tempo stringe, si guarda subito alla prossima di campionato, con l'aiuto della grafica vediamo i prossimi impegni che attendono le due formazioni laziali. Si parte con Savona-Trieste il 6 novembre, alle 21 quindi è l'anticipo, poi Ortigia-Prorecco il 7 alle 15, Roma-Visnova-Brescia, Sport Management-Lazio, Florenza-Quachiare e Posilipo-Bogliasco, queste ultime sfide si giocheranno alle 16 e poi Napoli-Sori alle 17.30. Allora, cosa vi aspettate dalla prossima sfida, Roma-Visnova-Brescia, una partita difficile, facile, insomma, cosa avete in mente e come pensate di affrontarla? Noi, diciamo, affrontiamo ora il Brescia, appunto che è in cima alla classifica, una delle squadre più forti del campionato, sarà molto dura, sarà difficile, però noi comunque cercheremo di esprimere sempre il nostro gioco e fare bene anche contro le big. Giacomo, invece quella con lo Sport Management è una trasferta delicata, come la Lazio ne ha vissute tante in questo inizio di campionato, quindi cosa vi aspettate per questa prossima sfida? Allora, questo prossimo turno è difficile perché appunto lo Sport Management è una squadra che dall'ultimo anno si è rinforzata molto, ha acquistato molti giocatori, l'allenatore è rimasto lo stesso, ma comunque la maggior parte dei giocatori sono cambiati. È una squadra difficile perché comunque è una squadra che punta la finale Scudetto, quindi noi ce la metteremo tutta, conosciamo i punti forti di questa squadra e quindi proveremo anche qua a prendere dei punti, anche se sappiamo che non sarà una partita facile. Allora, non mi rimane che dare un in bocca al lupo ai nostri ospiti e alla Roma-Visnova e alla Lazio per il prossimo turno di campionato. Noi ritorniamo come di consueto, però di martedì, sempre su Rete Sole. Vi aspettiamo. Noi ritorniamo come di consueto, Grazie a tutti.